Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su Minecraft E oggi è giovedì, quindi Minecraft Single Player Però, ho deciso di cominciare Minecraft Survival Invece di fare sempre Minecraft Creative Quindi, ho creato questo mondo e mi è piaciuto A parte per la bonus cesta, ma... Ho fatto pure i cheat Ah, è vero Game Rule Keep Inventory True Yeah Comunque, questa è la mia serie di Minecraft Survival Io ho Minecraft Survival perché riesco a metterla a Keep Inventory Non mi piace ogni cosa Che ti perdi la roba Quindi Dettagli Vabbè, comunque, sarebbe sì Sarà sì, ma non è che prendo la roba Non si sa dove Ho deciso i cheat solo per questo Solo per mettermi la Keep Inventory Se ci stava la moda con Keep Inventory Non neanche li mettevo i cheat Vado alle ciance e cominciamo il video Va cominciato da un pezzo il video comunque Ah, la novità Come notate, se notate E ho l'intro Adesso Però è ancora bruttissima Cioè, bianco e nera Cercherò al più presto di mettere l'intro Con i colori Che ho messo io Cioè, blu e nero Però si è un po' bagato Quindi Aspettate E Vabbè Facciamo le cose che si fanno nel survival Normali, no? Siamo più a trovare Appena ho visto questa montagna Ho visto questo buco Ho detto So dove mettere la mia casa Questo mondo è Questo mondo ormai C'è già una costruzione pronta Perché ho deciso Ora attaccherò Poi Attaccherò questo buco Intanto adesso vado a prendere Del legno Ah Vado a prendere il legno E' stato grande Ah, è vero C'ho 5 cose aperte Sto caricando il video di nostalgia Quello di ieri Che l'ho già fatto io Ecco Poi Guarda Mi sembra già una casa Poi C'ho Banditana aperto Stavo guardando un video di YouTube Non mi va di chiederlo Vabbè C'ho 3000 cose aperte Quindi Può laggare un po' Ma non è che proprio N'è che N'è che si muore Vabbè ragazzi Comunque E' da un pezzo Che non faccio I survival Poi c'ho avuto Un culo tremendo Perché Non da sempre tanta legna Non si sa perché E le asce E L'unica volta che mi è capito Per il ciclo Mi è capito male il ciclo Adesso Vado a prendere E l'esempio C'è una casa Ormai Ho deciso Quella è casa mia Poi qua sotto Ci farò gli allenamenti Di quello del genere Ma quella è casa mia Ormai è casa mia Madonna Ma ci arrivo Ma ci ho messo Vabbè Olè Olè Io può Oggi Una volta a prendere qua Aia No Facciamo una casa Aia Mi ha fatto prendere qui Ma che no 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 Bell'incontro C'è Stavo visto Ma combattimento Ecco Che mi è fatto La mia La mia La mia Poi mi sto facendo un male A cadere C'è Sto morendo Ma che cosa la metto qua Eh Mi dà un po' di dolore Poi di notte Coprerò tutto L'esempio Appena Cominciare qui Coprerò tutto quanto C'è Mi farò Andrò qua E studierò tutto quanto Intanto Un po' di Crusting table Leghiamo la strada C'è Lì A stico Ah poi Io sto giocando Nella Nella 1.8 No Quindi Ci sono Le porte Colorate di legno Quindi Farò Cosa è meglio Cosa è una palla No C'è Un'altra C'è Un'altra C'è C'è No Vabbè Raga I dream beat Saranno molto fallosi Vabbè Ma Quasi Amai Survival Quindi saranno fallosi Sicuramente Non è colpa mia Sono fallosi De loro Almeno all'inizio Perché dopo Un corno Poi Non ci sono animali Non ho visto Un animale Finora Non ho visto Ma alcuni Però Sono Sono stato Bastanza Affortunato Perché ho trovato Una grotta Ho proposto Intentare la casa Che io Sono andato Da dietro O Mi ricordo Forse dall'altra parte Perché questo mondo L'ho creato Non so quanto tempo fa C'è Otto anni fa Magari Capite Ok Facciamo il retorcio Il numero Facciamo il palo Ecco C'è Questo legno Per me È il legno Più schifoso Che esiste Peggio Da dirci Lo faccio solo Per prendere Un po' di vera Per scoprire Tutta la malattia Si bene C'è un po' Non mi riuscirete Perché ho sprecato Tutta la malattia Di terra Adesso Siamo qua E ci siamo infatti Il rifugio Momentaneo Sicuramente La cambierò A dettaglio Lo faremo In un altro bisogno Per adesso Voglio collegarmi Alla miniera Da qua A me piace Avere tutto a casa Tutto in casa Tutto in casa Se ci vuoi Sassù Se ci vuoi dare Pocket Edition Ci va tutto a casa Poi pure questi blocchi Fanno schifo Questi qua Siamo a terra Ma non sono terra E fanno molto schifo Io ho fatto Quanto Io non ti ho visto Non mi hai visto Non ci siamo visti E non ci conosciamo Madonna Ma quanto prende un colpo Questo tizio Olè 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 E cominciamo bene Mi hai dato un arco No? No Tutto questo carbone Ora che ci penso Se le abbiamo Quei due pezzi di terra Questi qua Ci mettiamo A tre teste Non è che Poi esce Il Wither Strano Andiamo a casa Anche se Se si può definire Una casa O qualcosa Granito Schifoso Anche se in realtà Il granito È servito per Far uscire la vita Sulla terra Non so perché Sono appassionato Tutte cose Eh Io puo Sono ossessionato da io puo E mi piacciono altre cose Yeah Io puo Eh Quanto sono Cioè non so perché Non so perché Ho ossessionato Tutalmente da io puo Da quando ho sentito Io puo Pino a dirlo Sì Sistemiamoci Diventare Questo 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 No Questo Questo Mi serve Ma Io ho paura Quando esco di notte Sicuramente quando All'inizio Però Io puo Quindi Uscirò Io Può Uscirò Madonna Però Vabbè ragazzi Basta Volevo Stavo facendo il video Però poi mi sopporto Che è venuto Moscio Moscio Perché stavo parlando Pianissimo Quindi adesso Strilelo Come Strile Che Vato Vato Tre volte Ho fatto io Raga Rendetevi conto Tre volte Qual è il senso Non c'è un bruttissimo Senso Fare tre volte Ho tutti tre volte Ho che ne faccio Tre volte Tre volte Tre volte Vabbè Sottiamo fra la roba La roba Mettiamo qua dentro Troverò Del ferro Lo brucerò Ok Tututututututututututu Gna gna Ah comunque raga la mia idea è tipo faccio una casa là, scendo nel lago, puoi pescare, vabbè vedrete nei prossimi episodi, se mi andate ancora di fare Minecraft Survival perché non mi piace molto, mi piace più o Creative o Minecraft Special Survival. Sì, ma comunque l'altra cosa non è per Minecraft Special Survival, quindi aspettate, mi ricordo che c'era una scheda, per me ci fa un testificate eh raga, e c'è pure un creeper. Sì, però rischia da grotto, stavate per vedere... Stavate per vedere... non lasciatemi in pace, anzi voi se ti mangio, ora raga vado a fare un bianco e vi mangio per me non muoio, non mi hai visto, non mi hai visto, tu non mi hai visto, ho quel forse che ho fatto bene, blocco, 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 ha ha, non passate, non mi passate, non mi passate, ha 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 ha, mi uccida pugni raga, ma sto mangiando, ma se sto fermo e attacco soltanto, perdo il forse, perdo il cibo, non lo so, ma se si è uscito quello interesse, ma ormai non vuole che vengono, ok, ho deciso, ho deciso, ho deciso, ho deciso, ho deciso, ho deciso, vado un attimo in miniera, e ci rivediamo quando ho trovato qualcosa, oh madonna, sto muore, quando finisce l'hanger, non vuole finire, 3, 1, venga, non ho trovato niente, però ho finito tutto il cibo, ora vado a trovare qualche seme, faccio aprire le ossa, ecco, qua, poi faccio la zappa, l'acqua sta laggiù, poi farò l'osso, l'osso tanto a casa, però per adesso ho messo tanto l'acqua, perché non c'è ferro, per fare il secchio, vabbè, stare sotto tutti i metodi mai, per formare, quindi, mi sto a spiegare questa roba, comunque, ah mio Dio, siamo 3, ok, andiamo a faccio la zappa, e poi comunque, poi, ma quant'è la testa c'è, c'è la gatta, c'è, questo posso, ma solo ti faccio, l'osso qua, l'osso qua, è stato un pietra, quindi non c'è un'appara, non mi basta, la gatta era bella per questo, vabbè, raga, ritorno, ritorno quando finisco l'orto, sì, raga, ho finito, ora devo collegare a casa, come ho detto io, sono, volevo collegare tutto a casa, quindi, tornerò, quando, ho detto, qui, dov'è casa, qua in cima, ok, era più vicino di quanto pensavo, stavamo più vicino, molto più vicino di quanto pensavo, ok, che culo, che culo tremendo, ok, no, auto, portfitto, poi volevo collegare a casa, non più che altro, volevo collegarlo, non se non più seguo, volevo collegare a casa, ci secondo me l'erre, anche questa mi viene, ricordate, qua devo collegare a casa, qua l'erre, come spero che l'acqua ci arriva se pensiamo a schism rossa bellissima ok, a me, schism si fa 5, yeah no, va vero si, l'acqua ci arriva perché, devo fare proprio stupido ok oh raga, cominciamo benissimo vado a prendere faccio porre delle solone, faccio dei panini e direi che con questi due panini potremmo finire, no? anzi raga cosa intelligente che eh da me è molto raro che faccio una cosa intelligente mangiamo panino che te lo sono? altro che cosa intelligente con kill la totale? ehm così 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 raga, pensavo di fare una cosa intelligente e fatto un fail lo stesso quindi mi la ho detto per rompirci la totale ma perchè se non è proprio parlare gli anni perchè si sta chiedendo perchè sto creando sta cosa è ovvio come fa una partire e mezzo senza bagnarsi un'aria meno tempo per riuscire a aiutare chi non ci è arrivato è più stupido di me ed è grave cos'è questa roba ma perchè ma perchè vabbè raga abbiamo capito che io oggi sono in vena di fail come sempre e da questo mio orticello vi saluto e ci rivediamo domani con il video di lol leg of a legend perchè se lo sto chiedendo ok cavoli non stavo registrando magnifico comunque ragazzi prima registravo ho fatto questo orticello mi sono fatto due panini poi collegato a casa e sono da casa ho trovato tutta questa roba che ho adesso ok poi non ho fatto niente avevo registrato però oggi sono veramente in vena di fail come ho detto prima io ho fatto niente ma le torce ma le torce ma perchè ok oggi sono proprio in vena di fail ok oggi quindi ragazzi continuiamo come da questo orticello vi saluto se non vi siete iscritti iscrivetevi se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e ci rivediamo perdone ci rivediamo domani in un nuovo video sul leg of legend e ciao a tutti bella a tutti ragazzi oh ma per ciao